Noi come Cantina e Ferrari abbiamo costruito quello che potremmo definire veramente un progetto, un percorso all'interno dell'esposizione universale. Secondo me ci sono tanti motivi che giustificano la forza e la determinazione con cui noi siamo oggi presenti qui. Il primo, vabbè, che è una vetrina straordinaria, una grande opportunità per tutto il Made in Italy ed è quindi anche una grande opportunità per noi di raccontare quello che stiamo facendo non solo agli italiani ma ai tanti visitatori stranieri che verranno qui a Milano. Ma c'è molto di più, c'è a mio avviso una coerenza perfetta tra i valori di Expo e i valori di Ferrari. Il tema di Expo, Feeding the Planet Energy for Life, è un tema che è legato alla sostenibilità e Ferrari da tempo si impegna fortemente sul fronte della sostenibilità. Expo si tiene a Milano e racconterà il Made in Italy e l'arte di vivere italiana e lo stile di vita italiano e Ferrari è ambasciatore dell'arte di vivere italiana nel mondo. Insomma tutto questo crea una perfetta sintonia tra i valori di Expo e i valori del marchio Ferrari che noi vogliamo comunicare. Ma poi c'è qualcosa di molto Ferrari, cioè che per noi non si tratta di un andare ad Expo ma di un ritornare all'esposizione internazionale. Nel 1906 all'esposizione internazionale di Milano un giovanissimo Giulio Ferrari ha vinto la medaglia d'oro. Questo giovane imprenditore arriva a 27enne all'esposizione internazionale e vince una medaglia d'oro con un'azienda che aveva 4 anni di vita. Oggi sarebbero le start-up che diamo anche a Padiglione Italia. Insomma mi sono anche detto se lui è stato capace a 27 anni di vincere una medaglia d'oro oggi come Cantina e Ferrari dobbiamo avere la forza, la voglia di tornare protagonisti ad Expo. Grazie. 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 Grazie.